È partito all'alba da Piazza Grande ad Arezzo per arrivare sul Monte Rosa, dove risiede il rifugio più alto d'Europa, Capanna Margherita. Questa l'impresa di Massimo Pascale, non nuovo a queste avventure, l'ultima sulla vetta del Monte Bianco. Stavolta percorrerà 600 km in bici più un percorso trekking di 17 km. Un atleta a cui piace mettersi in gioco, soprattutto per scopi benefici. Questa volta sosterrà il progetto Mitofusina 2 per la ricerca e la terapia contro le neuropatie ereditarie, malattie genetiche rare e progressive. Il padre di una bambina che ne soffre gli ha dato una maglietta che Pascale mostrerà al suo arrivo. Sarà possibile contribuire alla causa seguendo istruzioni e coordinate che saranno inserite nel profilo Facebook di Massimo Pascale. Allora, inizia perché ho la passione per la bici e per la montagna. In questo caso ho scelto anche un motivo forte per fare questo viaggio. Con me porterò questa maglina che quando arriverò su in cima farò una foto per sensibilizzare questo progetto Mitofusina 2. L'impresa sportiva allora in che cosa consiste? Che cosa farai? Allora, consiste nel percorrere circa 600 km in bici per poi lasciare la bici e continuare per la scalata della montagna, per raggiungere la vetta del Monte Rosa che ci troviamo a 4.500 metri. Senti, chi ti accompagnerà in questa avventura? Per la parte in bici ho due amici che mi assisteranno per tutto il viaggio dei 600 km. Arrivato lì alla località Staffal, si chiama, che è ai piedi del Monte Rosa, mi aspetterà una guida alpina con cui dovrò affrontare la scalata, che non è semplice come camminata però è lunga, sono circa 17 km con 3.000 metri di dislivello. Lui già mi ha avvertito che il tempo è abbastanza buono, l'unica cosa è che avremo delle temperature molto rigide, si parla di meno 15. Grazie.